Due figlie di Nathan, quel di Ana Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Io dico semplice, c'è sempre da migliorare E uno si migliora quando non è mai soddisfatto, capito? Cioè, sembra un po' una contraddizione, ma è la verità Lì abbiamo Umberto D'Alessandris e qui il piacere di stare con Giovannoni Fabio, giusto? Sì, abbiamo Andoni 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 Sì, abbiamo Andoni